Un'altra alba, il 27 agosto alle 6.25, sto entrando a Pescianomana, siamo il primo paese al confine con la Toscana, qui siamo già nel Lazio, nella provincia di Viterbo, sto cercando un barrettino aperto, la musica di Sancio Ormai Tourist ci accompagna in questo futuro, queste sono sempre prove di connessione con il telefono cellulare Nokia I51, installata un'assegna DAX della Grecia, piattaforma acquitta, sta sbettendo un live streaming, forse un bale sta aprendo, fantastico, si, il bale ha aperto, c'è una costruzione molto tipica, molto bella in questa provincia di Viterbo, Pescia Romana, il primo paese dopo Chiarone scavo, capaldo, che è al confine della Toscana con il Lazio. Alba, Alba, Pescia Romana. è sempre olivi, Belgià, dipini marittimi. Siamo a 5 km dal mare dove siamo noi alloggiati. Alla prossima.